ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale apriamo questa volta facendo un'analisi degli episodi di cronaca che si sono verificati recentemente nella città di Sulmona e diamo pertanto i numeri degli episodi di cronaca 5 episodi solo negli ultimi 7 mesi questo è il bilancio che ci illustra nel servizio Andrea Daurelli 5 case di violenza per futili motivi perpetrata e danni di giovani del posto da luglio 2016 a febbraio 2017 quasi un episodio al mese negli ultimi 7 mesi e il bilancio delle ultime aggressioni verificatesi nel centro storico di Sulmona rimbalzate agli onori della cronaca un quadro preoccupante che fa tornare sotto la lente l'ingrandimento è il tema della sicurezza e della pubblica incolumità il nostro report comincia dal 17 luglio 2016 quando nei pressi di piazza carotresca a Sulmona un 22enne di Rocca Casale venne malmenato e lasciato privo di sensi a terra riportò oltre 50 giorni di prognosi e si rese necessario il ricovero presso il reparto maxillo facciale del San Salvatore dell'Aquila l'attività di indagine della squadra anticrimine del commissariato di Sulmona condotta dall'ispettore superiore Daniele Lerario portò alla denuncia dell'aggressore, un 18enne di Sulmona un altro episodio che fece discutere non poco risale al 21 settembre 2016 i giardini del parcheggio di Santa Chiara divennero teatro di una violenza inaudita per aver negato la sigaretta a un conoscente un 17enne di Sulmona fu massacrato di botte il giovane affrontò un delicato intervento chirurgico all'ospedale dell'Aquila la polizia denunciò un 21enne di Sulmona, MF, le sue iniziali ristretto in seguito agli arresti domiciliari dal GIP del Tribunale di Sulmona notte violenta anche la vigilia di Capodanno fuori dal locale del centro storico quattro giovani, due ragazzi e due ragazze furono presi a calce e pugni da due persone individuate dall'anticrimine e denunciate il 2 febbraio nei pressi di Via Carrese un giovane è stato brutalmente aggredito colpito in volto da una bottiglia preso in seguito a ginocchiate rischia di perdere un occhio e gli uomini dell'anticrimine avrebbero raccolto diversi indizi per risalire l'identità dell'aggressore che ha le ore contate l'ultimo episodio risale la notte fra sabore e domenica nei pressi di Piazza Carlo Tresca dove un giovane è stato pestato di botte da un gruppo di persone per lui 20 giorni di prognosi lesioni alle costole, trauma cranico e due denti saltati sono in corso le indagini dell'anticrimine per risalire responsabili in città nel frattempo si respira un clima di preoccupazione soprattutto fra le famiglie mentre residenti del centro storico e sul monese in generale chiedono più attenzione per la sicurezza e la tutela della pubblica incolumità è in corso intanto sin dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione della Polizia di Stato dell'Aquila nei confronti di un'associazione a delinquere composta da cittadini italiani e stranieri dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti sono in esecuzione 14 misure cautelari di cui 9 in carcere, 3 ai domiciliari e 2 obblighi di dimora tra i coinvolti anche Aquilani il gruppo aveva quale base logistica per il confezionamento e lo stoccaggio della droga un appartamento che a seguito del sisma del 2009 era stato dichiarato totalmente inagibile in particolare sono state scoperte, smembrate due centrali di spaccio una per l'eroina e l'altra per la cocaina lo spaccio era diretto alla piazza Aquilana dove dopo il terremoto del 6 aprile 2009 i successivi il consumo di droga è in aumento e ci sono altri aggiornamenti su questa operazione di cronaca l'operazione è denominata Drugs in the City 2 operazione gemella di quella già condotta nel gennaio 2015 è ritenuta un colpo importante al traffico cittadino e oltre alle 14 misure cautelari ha portato anche al sequestro di sostanze per oltre 65 mila euro l'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia e in particolare dal sostituto procuratore Stefano Gallo e per il gruppo della cocaina ha riscontrato anche il reato di associazione a delinquere composta da quattro persone a spiegare i dettagli oggi in un incontro con la stampa il dirigente della squadra mobile Gennaro Capasso il responsabile della sezione antidroga Nazareno Buccella tra i sequestri 500 grammi di cocaina venduta anche a 100 euro a dose di un grammo per complessivi 50 mila euro e 150 grammi di eroina venduta a 20 euro per dose di 0,2 grammi per altri 15 mila euro e lasciamo quest'operazione di cronaca adesso torniamo a Sulmona per occuparci della vicenda dell'imprenditore Pasquale Di Toro che si è reso protagonista dell'azione in piazza 20 Settembre dove ha liberato dalla neve la statua di Ovidio il caso è diventato ormai un caso nazionale se ne occuperà anche Matrix con un'intervista realizzata proprio a Di Toro che sarà trasmessa fanno sapere tra giovedì e venerdì ma sentiamo altri dettagli nel servizio di Andrea D'Aurelio è finita la ribalta della cronaca nazionale per aver spallato la neve sotto la statua di Ovidio incappando in contravvenzione la storia dell'imprenditore sulmonese Pasquale Di Toro sarà raccontata a Matrix si programma nei Rane 5 le telecamere di Mediaset sono arrivate ieri in città intervistando il diretto interessato e il sindaco della città di Sulmona che pagherà la multa a Di Toro l'imprenditore in realtà rischia molto di più di una contravvenzione ma l'occasione è la spesa per parlare bene di Sulmona della sua gente del territorio voglio trasformare questa vicenda in qualcosa di positivo tutto il mondo deve sapere che a Sulmona si può vivere si può visitare si può investire afferma l'imprenditore ai microfoni di Onda TG che ricorda come è sempre la burocrazia a frenare l'entusiasmo continuo a dire che non sono l'eroe che pensano no ho soltanto ho soltanto rimesso in risalto un telone che avevano messo sulla nostra città fra le più belle del mondo mi hanno chiamato da Toronto Caracas l'Ohia che non sapevo neanche che esisteva e Boston purtroppo io ho fatto solo la terza media non fa niente però è così dobbiamo invertire il trend negativo se qualcuno ha detto qualche giorno fa che non si può venire a scegliere in Abruzzo noi diciamo che l'Abruzzo è una terra bellissima come del resto Sulmona bisogna trasformare gli impedimenti in opportunità con il sorriso conclude di Toro vuole sapere come ho fatto? non voglio più sentire parlare di cronaca non vogliamo più piangere a questa città vogliamo Sulmona quando incontriamo la gente che non è pessimista che ci sorrida sorridano ai turisti sorridano allo Stato uccidiamo la burocrazia e ci dobbiamo ridere sopra non le leggi la burocrazia il caso è diventato a tutti gli effetti una vicenda nazionale con l'imprenditore che nonostante tutto ha speso più di una parola buona per la patria di Ovidio quale immagine dovrei far passare? Sulmona il sorriso di Sulmona i confetti dove tutti si sposano Ovidio gli archi che sono del 1256 due papi ce li scordiamo due papi di Sulmona ce li vogliamo scordare? Dopo la notizia dell'attivazione del parto in acqua nel punto nascita dell'ospedale di Sulmona interviene il consigliere comunale di minoranza Elisabetta Bianchi che però non plaude all'iniziativa ed afferma arriviamo sempre in ritardo siamo sempre gli ultimi sentiamo queste dichiarazioni nel servizio su Sulmona si agisce sempre in ritardo non se la sente di esultare il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Elisabetta Bianchi sulla notizia dell'attivazione del parto in acqua nel punto nascita dell'ospedale di Sulmona che partirà fra qualche mese dal momento che dal reparto hanno già provveduto a prenotare la vasca perché non dicono che siamo gli ultimi ad averlo e con molto ritardo infatti nei presidi di L'Aquila e Avezzano questo servizio è stato attivato già da molto tempo interviene la Bianchi dove l'annuncio dato a un datg dell'assessore regionale alla sanità Silvio Palucci e noi quando potremo attivarlo concretamente si chiede la consigliera quanti parti abbiamo perso con questa politica del ritardo quando valuterete i nostri numeri vi ricorderemo in quali condizioni sono stati prodotti su Sulmona si agisce sempre in ritardo quando diventa inevitabile quando più di qualcuno fa loro capire che è necessaria parità nell'erogazione dei servizi sanitari altrimenti è chiaro che si vuole discriminare il nostro punto nascita se non si mette alle pari con gli altri come quando si è scelto aggiunge Bianchi che le mamme di Sulmona debbono andare a partorire ad Avezzano all'Aquila o Pescara con incremento dei cesarei maggiori costi di denaro pubblico e privato e maggior dispendio di energie che potrebbero essere dedicate ad altro benvenuti sulle nostre posizioni conclude il cavogruppo di Forza Italia dal 2015 abbiamo fatto molta strada ma non basta vogliamo anche per l'ospedale di Sulmona il primo livello così come si è derogato per Vasto e Lanciano si può fare di più e di meglio intanto la scossa di terremoto registrata questa mattina alle 9 e 28 con epicentro ad accumuli e magnitudo 3.8 è stata sentita da molti a Teramo e anche nelle scuole dove si sta facendo lezione in molti istituti della città di Teramo è scattato il piano di emergenza con i docenti che hanno messo in pratica il piano di evacuazione gli studenti del liceo classico come quelli dello scientifico dell'alberghiero dell'artistico del plesso della Molinari della scuola elementare sono stati fatti uscire per motivi di sicurezza in molti istituti i dirigenti scolastici hanno deciso la sospensione delle lezioni adesso ci spostiamo a Prato la Peligna per occuparci del santuario della Madonna della Libera a giorni ci sarà il nuovo sopralluogo dell'impresa prima di aprire il cantiere ci dice tutto nel servizio Andrea D'Aurelio la ditta che seguire i lavori il santuario della Madonna della Libera di Prato la Peligna effettuerà a giorni il nuovo sopralluogo sull'edificio di culto prima dell'apertura del cantiere il conto è la rovescia nel centro Peligno e partirò da tempo a parlare questa volta a Onda Digi e il parroco padre Renato Frappi si stanno adempiendo le ultime pratiche burocratiche al momento non so dire con esattezza quando cominceranno i lavori spiega il sacerdote che lascia indendere che la festa della Madonna della Libera in programma a maggio si darà probabilmente con il santuario chiuso devo ancora verificare i tempi con l'impresa e con il comitato e solo in un secondo momento potrò essere più preciso la mia premura è che i lavori si seguono bene nei tempi stabiliti se dovesse tenersi la festa con il santuario chiuso ci organizzeremo diversamente aggiunge padre Renato il cantiere dei lavori potrebbe aprirsi da un momento all'altro non appena saranno esperite le ultime pratiche a disposizione ci sono i famosi 800 mila euro ottenuti grazie a una delibera cipe 150 mila euro grazie a un comitato spontaneo dei cittadini e 250 mila euro con la legge mancia somma ottenuta dall'amministrazione dei crescentis adesso ci occupiamo di garanzia over perché ci sono 300 richieste di assunzione ed è stato pubblicato l'elenco delle aziende ammesse sentiamo 300 richieste di assunzioni a tempo indeterminato presentate nella sola giornata del 5 dicembre 2016 di cui circa 23 arrivate dalla Valle Peligna questi numeri dell'avviso pubblico garanzia over emanato dalla regione Abruzzo su impulso dell'assessore regionale al lavoro Andrea Gerosolimo gli elenchi delle aziende ammesse a finanziamento sono state pubblicate sull'home page del portale www.regione.abruzzo.it nella sezione notizie sul sito abruzzolavoro.eu gli elenchi riguardano le sue aziende che hanno presentato in stanza il giorno 5 dicembre 2016 cioè il primo giorno utile per presentare le candidature la pubblicazione riguarda le aziende ammesse per la linea 1 incentivi finalizzati all'assunzione di disoccupati over 30 residenti nei comuni della regione Abruzzo ricompresi nelle aree interne nelle aree di crisi complessa e non complessa aziende ammesse per la linea 2 incentivi finalizzati all'assunzione di disoccupati over 30 residenti nei comuni della regione Abruzzo non appartenenti ad aree interne di crisi elenco delle candidature del 5 dicembre 2016 escluse gli uffici un risultato un risultato sorprendente e straordinario rimarca l'assessore Gerosolimo stanzieremo ulteriori fondi in futuro utilizzando lo stesso strumento che permette di ridurre il gap fra le aree interne e la costa adesso prima di passare alla pagina sportiva per quanto riguarda le squadre del centro Abruzzo apriamo una finestra sulla situazione del Pescara Calcio perché i Pescara Rangers l'unico club ultra dei tifosi del Pescara nato nel 1976 contestano apertamente società e squadra del Pescara a poche ore dalla conferma sulla panchina bianca-azzurra di Massimo Oddo annunciando che da domenica prossima diserteranno lo stadio adriatico e il settore loro riservato della curva Marco Mazza a partire la domenica prossima in occasione di Pescara Genoa e fino alla fine del campionato noi Pescara Rangers non entreremo in curva nord vi lasceremo soli con la vostra vergogna tuteleremo si legge nel comunicato diramato questa mattina i nostri 40 anni di storia per farlo abbiamo deciso di prendere le distanze da tutti voi dai dirigenti fino all'ultimo dei massaggiatori da voi che non avete il minimo diritto di rappresentare i nostri colori e il nostro simbolo saremo presenti soltanto in trasferta per noi stessi per la nostra città e per la nostra maglia conclude il tifo organizzato della Pescara Calcio che da domenica ripetiamo diserterà lo stadio Adriatico e rimaniamo in tema di calcio perché ci sono novità per quanto concerne il Teramo la sconfitta maturata nel posticipo di ieri a Fano 2 a 0 per i marchigiani ha provocato l'ennesimo ribaltone tecnico quarto stagionale in casa del Teramo il patron Luciano Campitelli ha esonerato per la seconda volta in stagione il tecnico Lamberto Zauli a cui era stato dato già il ben servito a settembre dopo quattro gare di campionato al suo posto arriva Guido Ugolotti spezzino ma romano d'adozione 59 anni a cui spetterà il compito di salvare i biancorossi penultimi in classifica Ugolotti è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è svolta allo stadio Bonolis con Zauli vanno a casa anche il suo vice Rodolfo Giorgetti e il preparatore atletico Mattia Vincenzi e sonerato anche il direttore sportivo Bolla che aveva preso il posto dell'ex di S. Fabio Lupo e che aveva deciso di richiamare in panchina Zauli dopo l'esonero di Nofri biancorossi contestati dai tifosi anche al novantunesimo della gara del Mancini e adesso ci occupiamo della sulmonese Ofena per quanto riguarda il campionato di promozione perché scendere in campo domani la sulmonese Ofena che affronterà al Pallozzi il Castiglione Valfino per la gara di recupero della seconda di ritorno del girone B di promozione in caso di vittoria i biancorossi scavalcheranno il passo cordone portandosi al quarto posto in classifica quando l'obiettivo playoff sembrava distante le chance sono aumentate in seguito agli ultimi risultati positivi della squadra nelle ultime sei gare tre vittorie e due pareggi e dunque la squadra domani avrà la possibilità di rilanciarsi ulteriormente in classifica e raggiungere la quarta posizione che a differenza del quinto posto dà maggiori garanzie per la disputa degli spareggi promozione il confronto con il Castiglione Valfino è dunque fondamentale per il proseguo del campionato perché la vittoria domani permetterebbe poi di affrontare domenica in casa proprio il passo cordone con il vantaggio in classifica Sulmorese Ofena Castiglione Valfino domani alle 15 allo stadio Francesco Pallozzi di Sulmona resto spazio ai campionati minori spazio che diamo a questi campionati nei telegiornali del martedì nella quinta di ritorno del girone C del campionato di prima categoria importante successo della Virtus Pratola nello scontro diretto con il Sant'Anna per 3 a 1 è stato lo scontro tra le prime due in classifica che ha dato il lancio ai Peligni che grazie a questo successo hanno allungato il distacco sulla seconda posizione portandosi a 6 punti avanti la Virtus Pratola mantiene il record di 0 sconfitte con l'obiettivo di proseguire con questo ritmo per centrare la vittoria del campionato i pratolani sono adesso al comando con 45 punti al secondo posto lo scafa a 39 punti che vincendo contro il San Martino per 2 a 1 ha scavalcato il Sant'Anna nella bassa classifica ennesima sconfitta del Popoli che perde per 3 a 1 ad Orsogna in seconda categoria si sono giocati i recuperi dell'undicesima di andata nel Gironea si sono disputate Pacentro Montereale 5 a 1 e Moronese Pianola 1 a 3 con la vittoria il Pacentro ha conquistato la prima posizione in classifica a 33 punti scavalcando il Genzano la Moronese invece uscita sconfitta in casa al campo di Bagnaturo ha perso l'occasione per rilanciarsi in classifica e rimane al settimo posto a 17 punti e vediamo adesso la sconfitta interna della Moronese contro il Pianola per 3 a 1 sconfitta frutto di tre episodi che hanno condannato la squadra delle frazioni nel servizio ritorno a mano dopo circa tre mesi al campo di Bagnaturo per la Moronese uscita sconfitta nel recupero contro il Pianola che in considerazione delle sfide della scorsa stagione si conferma bestia nera della squadra delle frazioni padroni di casa con diverse assenze ma anche gli ospiti sono rimaneggiati con il dubbio sin all'ultimo del centrocampista di Pasquale che alla fine gioca rendendosi protagonista di una discreta prestazione dopo tre minuti finisce a terra intensa ma l'arbitro Bonitari bussa lascia correre perché l'intervento di Mario Cianfarano è sulla palla se i propositi del match per la Moronese sembravano buoni al settimo costa cara un'incertezza difensiva di Gian Lorenzo che perde palla e si fa superare da Lepidi che successivamente riceve da Marcocci siglando il vantaggio per gli Aquilani che al quarto d'ora ci provano con un colpo di testa di Guardiani terminato alto subito dopo si fa vedere la Moronese con Safon che manda di poco a lato alla mezz'ora si distingue l'estremo difensore del piano la Centipi Zutilli che pare in due tempi una gran botta con il sinistro da fuori di Porretta riuscendo anche a contenere l'avanzata di Liberatore l'azione di buon auspicio per la Moronese che pareggia di inizio ripresa al sesto da una punizione di Safon colpisce di testa in area pezzi per l'uno a uno ma con l'immediato ingresso in capo di Faiella al posto di Marcocci il piano la si renderà più propositivo in avanti al dodicesimo Guardiani propone in area proprio Faiella che spedisce in out due minuti dopo ancora Faiella con una conclusione dalla distanza al quindicesimo la Moronese reclama umani in area di Tudico ma al diciottissimo gli ospiti passano di nuovo in vantaggio traversone dalla sinistra di Di Pasquale e colpo di testa in area di Guardiani ma c'è un tocco di Giallorenzo che si rivela una beffa per Torre con la palla che si deposita in rete alla mezz'ora incursione in area di Faiella con Di Pasquale che prova a correggere in porta ma Torre riesce a parare si rivede la Moronese due volte con Liberatore in entrambe le circostanze conquista Centipizzutilli al novantunesimo il Pianola chiude i conti sul 3-1 non è giornata per Michele Giallorenzo che in difficoltà nel controllo di palla prova a servire di testa il proprio portiere ma si inserisce Faiella che batte Torre con un pallonetto nell'extra time Liberatore termina a terra mentre prova a superare Centipizzutilli e protesta nei confronti dell'arbitro vince il Pianola che si porta a meno uno dalla terza posizione mentre la Moronese tradita da tre episodi perde l'occasione per rilanciarsi in classifica tra i nostri indecisioni loro hanno fatto i tre gol noi avevamo recuperato la partita sull'uno pari abbiamo cercato con le forze attuali di fare il meglio poi se ci sono tre errori che ci possono stare in una partita ma errori che hanno facilitato troppo a loro la partita e a loro dispiace quest'anno dopo un campionato passato l'anno scorso a combattercelo a contendercelo con l'oro della Moronese quest'anno siamo venuti qui per ribadire la nostra forza abbiamo giocato un'ottima partita con la cattiveria e la grinta giusta abbiamo portato a casa la vittoria la gara Moronese Pianola sarà trasmessa dalla nostra emittente questa sera a partire dalle ore 21 nel girone B di seconda categoria recupero vittorioso del Bugnara che ha sconfitto in casa il Cese per 2 a 0 si sono giocati anche con l'Armele Ortigia 4 a 0 Deportivo San Giuseppe Caruscino 1 a 2 e Villa Vallelonga Marruvium 2 a 2 con la vittoria il Bugnara consolida il quarto posto in classifica raggiungendo 20 punti insieme al Collarmene chiudiamo anche la pagina dedicata al calcio e di particolare ai campionati minori che la nostra emittente dà spazio nei telegiornali del Marotigio e di adesso prima di concludere come al solito ci sono i film in programmazione alla multisala Ijoland di Corfinio 50 sfumature di nero con proiezioni alle 18 e 20 alle 21 e 10 Lego Batman il film alle 18 e alle 20 e 40 Mamma o Papà con proiezioni alle 18 e 10 e alle 21 e 10 bene tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale adesso vi lascio alla rubrica buon appetito per conoscere il piatto del giorno subito dopo la sigla per quanto concerne il Tg appuntamento alla prossima edizione in diretta questa sera alle ore 20 ci salutiamo con il meteo buona giornata a tutti voi sulla nostra regione condizioni generali di cielo poco nuvoloso parzialmente nuvoloso con residui addensamenti e possibili banchi di nebbia sulle zone collinarie ed alto collinari che si affacciano sul versante adriatico possibili addensamenti sulle zone montuose e sul settore orientale ma poi è prevista una progressiva attenuazione della nuvolosità anche se non si escludono foschie dense e banchi di nebbia durante le ore notturne e al primo mattino della giornata di domani temperature in aumento specie sulle zone collinarie e montuose venti deboli di direzione variabile o orientali mare generalmente quasi calmo o poco mosso e that's Grazie a tutti.